Allora, ritorniamo insieme sempre dal pratone di Robecchetto. Pochi giorni fa, intanto ci arrivano dei palloncini, ma è stato fatto apposta per la nostra presenza. Dicevo che pochi giorni fa c'è stata la giornata dell'Avisino. L'Avis è un'associazione importantissima, donare il sangue è gratuito, non costa niente, ma regala molto. Claudio, presidente dell'Avis di Robecchetto, ci vuoi raccontare il perché della vostra presenza è quello che fa l'Avis e l'associazione tra l'Avis e sport. Diciamo che l'Avis è un'associazione di volontariato che dà il suo contributo. Noi siamo una sezione, la sezione di Robecchetto con Induno, e tramite le sezioni gli avvisini possono andare a donare. Per andare a donare devono, come si dice, iscriversi alle sezioni, se no non possono andare. Come sezione Avis siamo impegnati ormai dal 1977 e abbiamo un centinaio di iscritti con circa 170-180 donazioni all'anno. Siamo un po' calati, ma è una cosa fisiologica. Tutte le sezioni Avis in Italia sono calate e penso anche tutte le altre associazioni hanno difficoltà. tra pandemia, tra il calo demografico e tutto quanto. Noi ci diamo da fare, siamo pensionati e ci diamo da fare. Ed essere presenti in una festa come questa vuol dire anche ricordare l'importanza, perché poi se capiamo l'importanza di donare il sangue, capiamo anche l'importanza di fare sport, che ci permette di avere dei valori più corretti e magari donare il sangue fino a 70 anni. Esatto, perché fare sport è una cosa fondamentale per stare sani e per donare il sangue devi essere sano. È importante, tenete la mente, ci sono dei valori che poi vi vengono riscontrati, quindi siete anche sotto occhio, donare il sangue è importante. Iscrivetevi presso la vostra sezione se siete a Robecchetto. Alla vestire Robecchetto, grazie Claudio. Un'altra cosa, volevo sponsorizzare la nostra camminata che si svolgerà giovedì sera, camminata notturna delle Cascine, organizzata da Avis, che ormai è la camminata notturna e la seconda edizione, ma noi come Avis, un'altra cosa, volevo sponsorizzare la nostra camminata,